Come faccio a rimanere motivato quando i risultati non arrivano? Oggi parliamo di questo, proprio perché molte persone che mi scrivono mi dicono Matteo, come faccio a mantenere alta la motivazione se lavoro, mi impegno, però non arrivano i risultati? Allora, voglio andare a spiegare tre cose fondamentali per correggere il tiro e assicurarti di avere sì i risultati che vuoi ottenere. Prima cosa, concentrarsi su micro risultati. Quindi è chiaro che se parti da zero in un business come può essere il marketing digitale, social media manager qualsiasi cosa che provi a fare online ma anche nella tua carriera è ovvio che quando parti da zero la parte iniziale è sempre la più difficile. Come dico sempre io, quando devi lanciare un razzo, non so se lo sai ma l'80% dell'energia viene impiegata solamente per staccare il razzo di 20 cm da terra. Capisci? L'80% dell'energia solamente per farlo alzare e poi con il restante 20% il razzo può fare il giro di mille pianeti. Ecco, è quello che succede quando tu inizi qualsiasi tipo di business o di attività improprio. All'inizio è tanto tanto sforzo, pochissimi risultati. E l'errore che noi facciamo a volte quando iniziamo un business è proprio metterci obiettivi troppo grandi. Sento alcune cose ma anche nell'ambiente della motivazione e della crescita personale. Mettiti obiettivi giganti, obiettivi mostruosi, deve sembrare raggiungibile. Io non sono d'accordo con questo. Io sono invece dell'idea dei micro step, dei micro risultati e dei piccoli passi. Perché all'inizio se tu parti col tuo business e ti metti in testa voglio fare mille clienti, voglio fare un milione! Sono risultati così grossi che parliamoci chiaro tu non ci credi di poterli raggiungere, non ti sta nella testa non ti sembra vero avere un milione di euro o avere mille clienti non ci credi, questa è la verità. Quindi micro obiettivi, obiettivi piccoli e poi quando li raggiungi non c'è cosa più potente dei risultati cioè non c'è niente che ti gasa di più di avere un micro risultato perché da lì ti viene ancora più fame e vai per il secondo obiettivo e poi per il terzo e poi per il quarto e cresci così. Quindi questa è la prima cosa, micro obiettivi e cerca di vedere anche, anche se non hai avuto magari risultati economici guarda soltanto come sei cambiato. nel giro di un mese, due mesi o tre mesi probabilmente non sei la stessa persona di prima allora quello è il risultato e da lì devi ripartire e andare sempre più forte fino a che non arrivano i primi risultati tangibili. Seconda cosa importante, non cambiare strada continuamente questa è la legge dell'all in se fai una cosa falla bene e falla fino in fondo purtroppo non vedendo i risultati la prima cosa che ti viene da fare è cambiare business ci sono mille oggetti luccicanti soprattutto sul web e uno vede la nuova opportunità, il nuovo business, la nuova possibilità ci sono mille opportunità che arrivano tutti i giorni e quindi uno salta da una cosa all'altra e alla fine così rimane sempre inconcludente se fai mille cose le fai tutte male allora io ti dico per una volta schierati buttati, fai una cosa, vai all in e metti lì tutta la tua energia per abbastanza tempo da vedere i primi risultati questo è l'obiettivo quindi mettiti proprio il paraocchi non guardare nemmeno cosa c'è e ti garantisco che io ho cambiato la mia vita così quando ero lì a martellare su internet mi arrivavano mille opportunità mille idee, mille business, mille cose a un certo punto mi sono messo il paraocchi mi sono detto ok basta faccio una cosa, la faccio bene e a quel punto i risultati arrivano terza cosa molto importante impara ad ascoltarti e capire che sensazioni hai dentro perché ti dico questo? perché molte volte stai svolgendo un'attività stai facendo un business che non risuona al 100% o meglio non è sulla stessa frequenza di chi sei tu ti faccio un esempio così lo capisci quando io mi occupavo di network marketing mi sono reso conto a un certo punto che i business, i network marketing di prodotti fisici non erano fatti per me o meglio io non ero fatto per loro perché a me piaceva molto di più l'aspetto online cioè fare i webinar lavorare online ero molto più da marketing digitale capisci? e andare a dare il prodotto alle persone farglielo assaggiare lavorare col prodotto anche se mi piacevano i prodotti non era per me perché io avevo altre qualità avevo... ero fatto in modo diverso quindi ho capito che il mio successo non poteva essere lì e in qualche modo così mi sono reso conto che ero frenato stavo andando al 50-60% del mio potenziale ero una Ferrari col freno a mano tirato perché? perché stavo facendo una cosa che non era al 100% in linea con i miei valori e la mia visione della vita quindi chiediti ma realmente quello che sto facendo oggi come attività come business è in linea al 100% con la mia visione della vita con lo stile di vita che voglio cioè mi piace veramente tutto perché se ti piace veramente tutto e sei in linea con quella cosa sprigioni un'energia assurda e riesci a spaccare ma se anche c'è solo una cosa che ti frena non riuscirai mai ad avere il successo che vuoi quindi cerca di capire come sistemare questa cosa e se non si può sistemare cambia attività cambia business cambia settore e vattene via quindi queste sono le cose più importanti te le ripeto al volo numero uno mettiti piccoli obiettivi e cerca i piccoli risultati perché tanti piccoli risultati ti porteranno al grande risultato numero due fai poche cose e falle bene scegli un settore scegli un business vai all in e metti lì tutto il tuo focus punto numero tre fondamentale impara ad ascoltarti e se quello che stai facendo non risuona al 100% non vibra sulla tua stessa frequenza cambia aria cambia settore cambia attività e a quel punto trova qualcosa che realmente ti fa battere il cuore mi auguro che anche questo video ti sia piaciuto ti mando un abbraccio e a presto avanti tutta grazie a tutti